Anche perché c'è curiosità, sia pure, se abbiamo detto, chiari origini orientali per la Senge, è l'unica stradunitense presente nelle finali di specialità. Poverina l'altra stradunitense, la Kerber ha avuto una forte influenza perché non ha partecipato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so come le giudici considereranno quella, se è una caduta sulla capoccia oppure semplicemente una capovolta.